Sono una persona intelligente, signor maialino intelligente Per accendere la stranave devi prendere Y, per spostarti clicca il tasto sinistro del mouse e portalo da qualche parte Uh, 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 sto andando, aiuto! E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, e questo è Gigiocchia Maroblox Andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Damiano, Massimo, Matteo, Chiara, Aurora e MTG05 Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Oggi siamo in una mappa che ci avete consigliato in tantissimi Che si chiama Moon Tycoon Quindi credo che siamo nell'universo, tipo nello spazio Nella luna Nella luna Nella luna, se Moon Tycoon sarà la luna Non lo so, gli altri pienti sono un po' troppo vicini Per essere nella luna Quella è la Terra? Quella è la Terra? Sì Bellissimo, sì, siamo nella luna per forza Perché sono capriolando? Salta con noi la spada laser Lo so, l'ho già visto L'ho già visto Fai le capriole quando salti in avanti con la spada Che hai appena inizi il Tycoon Bellissimo Che ancora non hai fatto nulla Ho un incarico per te Dimmi Vieni Sì Qual è l'incarico? Dovina Avvicinati lì Avvicinati lì Qua, vieni, vieni, vieni qua Guarda, c'è una cosettina verde No Sai che cosa ho pensato per un momento? Che mi stessi incaricando di uccidere only la tizia Ah no, 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 no Perché mi hai detto Guarda lì Ho detto Non dirmi che li devo uccidere Ero già felicissimo Infatti avevo già la spada così pronta E invece sei una delusione Devi premere, sì Sei una delusione Vai inizia, brava Oh, che brava Vai a premere nel mio tycoon nel mentre Dai, renditi utile Dai, renditi utile Come sempre siamo già tantissimi consolini In ogni caso dovrebbe essere un tycoon Ma abbiamo quasi il server pieno Cioè siamo una cosa vergognosa Come sempre Posto entriamo lo riempiamo È assurdo Comunque dicevi Che sarà un tycoon sullo spazio Dove da quello che ho capito Dopo che ci costruiremo la nostra base Potremo fare una navicella spaziale Per andare negli altri pianeti Oh mio dio, questo non lo sapevo Già Non lo sapevo Allora, io di questo tycoon lo dico Non ho visto niente Ok L'ho visto tantissimo consigliato nei nostri commenti Io mi fido dei consolini Quindi ho detto facciamolo Perché tanto se ce lo consigliano così tanto Sarà sicuramente fantastico Sì, è vero È stato uno di quelli più richiesti Infatti non potevamo non portarlo Sì, 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 sì A te da super hero tycoon Guarda Esatto Questi due sono stati più richiesti Quindi mi sono fidato Ho detto entro E poi vedo come sarà Hai notato che li creo talmente velocemente Che arrivo a creare delle linee Guarda Sì, ho notato Troppo veloce Guarda Troppa velocità Troppa velocità nella mia produzione Assurda È bravissima ragazzi Sì, sì, sì È nata per fare soldi Sono nata per fare i soldi in tycoon Guarda Potrebbe essere il mio lavoro Visto Potrei farmi assumere da qualcuno Lei si fida ciecamente di noi Guarda È una consolina che si fida Alle spalle poi Sei proprio un infame Guarda Sei proprio un infame Alle spalle Non si fanno le cose Bisogna affronteggiare le persone faccia a faccia Ma è ancora più bello Perché non se l'aspettano Così li spaventi pure Hai capito? Mi hai lasciato qui solo soletto A cliccare come un pazzo Guarda Mi fa male la mano Mi fa male la mano È il tuo lavoro È il tuo lavoro Mi dispiace te con tu Opprimi tu Me la dovrei massaggiare tutta la notte la mano Perché mi fa malissimo Non penso proprio Te la taglio al mano Se proprio ti fa male Te la taglio Posso mettere questo? Guarda Le vedi che hai reso tutto delle palline? Ma sta uscendo tutto fuori E infatti mettiamo subito i muri Ah ok Ok perfetto Dicevo Sta andando tutto da tutte le parti Bellino Ok Adesso Bellino Aspetta Che succede? Che hai visto? Che hai visto? Succede che non so minimamente cosa siano queste cose Tipo Allora Allora queste sono armi sicuro Sì Questi sono altri dropper Il beam drop Dove droppa Capito? È quello che mi confonde Prendi quello che costa di meno Esatto Vediamo che cos'è Dai Ah guarda Fa tutto da solo così Ah perfetto Bello questo Almeno così non dobbiamo cliccare Lo lasciamo lì a produrre Perfetto Scusa dobbiamo prendere questo un attimo Vieni Prendi questa Oh mio Dio Questa è l'arma La mia arma preferita Perché non la posso prendere? Usiamola su Letizia Uh l'ho presa Aspettami Sta scappando Andiamo Aspetta arriva Sta bene cosa gli aspetta Ma l'hai già uccisa Non ho fatto nulla Che tristezza Pichiamo anche un lì Aiuto mi stanno sparando Chi ti sta sparando? Eterna Love c'è una pistola E ho già le armi Ho già le armi belle Maledizione Aspetta Mentre litigavo ho shoppato un altro cosa di punizione Per sbaglio Vabbè prendi tutto Dai prendi tutto Guarda che belli Bellino Mi piace anche questa cosa che questi facciano tutto in automatico Questi dropper Così almeno diciamo che Punti a prenderti le armi E vai a picchiare tutti E poi ho un sacco l'ambientazione da spazio Che adoro troppo Guarda i primi muri Così iniziano Bellissimo A lasciarci un pochettino in pace E vieni a prenderci la pistola Dai Così proviamo Ma guarda Guarda come diventa poi il taekun Là che ce l'hanno già avanzato Diventa davvero fighissimo Sì Guarda La pistola Sì La pistola Aspetta Non me le fa prendere subito Ci devo passare sopra 20 volte Eccomi Ok Era solo per provarla Ok Te ne devo rendere uno giusto per provarla Ok Guarda ti puoi mettere qui sopra E fare da torre da vedetta Guarda Appena vedi qualcuno avvicinarsi lo spari Bellissimo Bellissimo Mi piace Allora 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 Le armi per adesso le lasciamo così Ok Perché dovremmo essere abbastanza ben messi Ci compriamo il secondo piano Dato che abbiamo i soldi No ma è un tetto Non vedo scale o qualcosa del genere Vedi delle scale? Allora Non impazzire Che è successo? Promettimelo C'è un teletrasporto Guardami Guardami Oh mio dio Oh mio dio Lo voglio provare prima io E che succede? Aspetta Forse non ci possiamo stare in due Non posso O forse sono delle scale Vedi che quelle bar Ecco No Ok Mi ha un po' deluso Pensavo mi risucchiasse Come se fosse una navicella aliera E direi E certo Se mi prendesse così Invece no Vabbè Ho visto le scale Ho detto saranno scale Va benissimo Spacecraft Sarà questa la navicella? Sì Sarà questa? Sì Ma il robot L'astronauta Allora Cosa sono queste cose? L'astronauta ce lo possiamo Oh mio dio Prendilo Prendilo immediatamente Che succede? Mi trasformo io? Aspetta Aspetta Oh mio dio Oh mio dio Ho sempre sognato di essere un astronauta Non ci credo Oh mio dio Siamo carinissimi Salta Salta ti prego Uh Come quando salti nella luna Che salti tantissimo Vedi almeno adesso siamo ambientati meglio Siamo vestiti da astronauti Siamo perfetti per questo take one Questo take one È già bellissimo Chissà che cosa se vero boss serve a trasformarci o altro In ogni caso sembra velocissima la produzione Sì è davvero velocissima Infatti credo proprio che il gioco si basi sull'andare ad esplorare le altre parti Quindi è interessante Ti sei uccisa? Sono uscita dalla tua porta e mi ha distrutta No Mi sono dimenticata che Cioè non mi sembrava bloccata Perché di solito ha le fascette rosse Capito? Vedi che non c'è nulla Eh lo so Lo so Non c'è nulla Quindi pensavo di poterci Passare invece no Che morte terribile Sì è stato davvero terribile guarda Ok Abbiamo 18.000 Io credo che la navicella la potrò prendere solo io Quindi non ci sarà Spero di no Spero di no Il passaggio per te Vediamo Oh mio dio Oh mio dio Allora io salgo lo stesso Mi metto dietro Vai Vai Proviamoci Proviamoci Vai Non mi interessa Come si guida? Non so Come si guida? Nessuno mi ha spiegato come si guida Mi metto sopra Ma io non sono un pilota Non parte te lo giuro Forse perché ci sono sopra io Prova Aspetta Cos'è questa cosa? Fantastica Oh mio dio Sono un robot Sono un robot Epico Davvero Allora bisogna trovare un Forse da qui Da qui prova Che cosa? Adesso forse puoi partire Vedi che c'è questa grata strana Magari devi passare per di lì con l'astronave Prova Niente Non si muove E sei saltato in aria Ma non è che si è flippata? Dammi un'altra Per favore Ho l'astronave bucata Non funziona Proviamo a prendere il terzo piano Sali e non si muove Proprio direttamente Ma ci sei salita? Sì Ma ti funziona Mi arrabbia tantissimo Allora Sono una persona intelligente Signor maialino intelligente Per accendere l'astronave Devi prendere l'ipsilon Per spostarti Clica il tasto sinistro del mouse E portalo da qualche parte Sto andando aiuto È difficilissimo Me l'hai distrutta Aspetta È successo un problema Sono morta Mi sono schiantata Non appena sono uscita Praticamente appena premi y Ti parte la navicella dritta E non so minimamente come riuscire a gestirla Quindi preparati quando la stai per prendere Ci provo? Sto riuscendo a volare Ti farei notare la velocità È la cosa più tratta del mondo Wow È lentissima Come hai fatto a riuscire a governarla? Devi mirare col mouse Ma soprattutto cliccare sinistro col mouse Vedi? Se io clicco gi Troppo complicato Scusami Invece io muovevo soltanto il mouse Sperando che girasse da sola Io ho un problema Sì? Ho buggato la mia astronave Non ho l'idea di come farla tornare E quindi non puoi più venire da me Esatto Ma io sto andando su... Che pianeta è secondo te? Credo sia Giove Dal colore dovrebbe esserlo È anche dagli anelli Credo Sto provando ad atterrarci Ok Vai Per accelerare i primi P Per accelerare... Vai Guarda come sono veloce Mi sto schiantando Attento Non capisco Forse lì non ci puoi andare Facciamo un'esterno di marcia Non lo so Aiuto Sono... Aspetta come si rallenta Come si rallenta Oh mio Dio Ecco qua Ecco qua Io non ci credo Io se non ci credo Hai perso l'astronave Adesso come torni? Come torni? Come si fa a rallentare? Credo che mi dovrò suicidare Comunque praticamente Tu nei pianeti Devi entrare dentro Ok E c'è guarda Questa base Ok E c'è una bandiera Se la conquisti E quindi lo conquisti Lo conquisti giusto? X per fermare l'astronave Ricordatelo perché sarà Cioè sono troppi tasti Molto importante Non me li ricorderò mai Non me li ricordo Perché non si guida Come tutte le altre cose? Io ti sto aspettando Quindi dentro? Sì X Ok Aspetta Ce l'ho fatta E ho di nuovo Accapotato l'astronave Io riesco a atterrare Solo al contrario Guarda Un atterraggio così così Vedi? Adesso che faccio? È al contrario Adesso c'è questa bandiera Ok E credo che standoci sopra La puoi conquistare Ma perché è celeste? Scusami Perché è totalmente buggata Ok 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 Tu sei giallo Io sono rosa Quindi perché è celeste? Perché l'ha data mini neda Ma che non era sopra la bandiera Quindi si è buggato tutto E sono arrabbiatissimo Io Ti devo salutare Ti butti giù Vieni Vieni Vedere la mia No ma vengo anch'io Tanto Cioè la navicella Quando è così Ormai ho capito Che non la recuperi Devi solo aspettare Sei una bruttissima persona Volevo buttarmi insieme a te Invece sei una bruttissima persona E scusa Dovevi morire Almeno ti sparo E mi diverto io No Approfittiamone Quando ti devi suicidare Sei una bruttissima persona Allora Ti sto guardando Che poi c'è l'astronave fucsia Non fa guardarti È bellissima Vai 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 Devi atterrare dentro Aspetta Mi preparo Vai Oh Ho fatto l'atterraggio Perfetto Perfetto stavolta Gli applausi come quando Sì in aereo E si fa l'atterraggio Esatto Ho imparato a guidare La mia astronave Sono bravissima Complimenti Allora Praticamente ti volevo far vedere Qua C'è tutta la nuova produzione E avendo 20.000 È pieno di cose Ma quanti pieni sono Ci possiamo divertire Quanti pieni sono È infinito Anche qua è da premere No dai Parliamo finta di nulla Allora Questo si chiama Moondrop Ok Quindi dovrebbe Troppare delle lune Un altro No Un altro Continui voi Ho finito i soldi Ok Bravissimo Ma anche qua Sono tutti dropper Quindi ti fai una super produzione Qui sopra E qua dentro c'è qualcosa Perché si è formata Una specie di battle Andiamo a vedere Andiamo a vedere che cos'è Possiamo tipo sparare È so morta Come? Non ci poteva entrare Evidentemente No Che cosa triste Uffa Oggi stai marendo tantissimo Sì perché Praticamente Non è come gli altri Taikun Che tu giri tranquillamente Nel seconde Un altro È tutto bloccato Dove stai andando? Ehi Super in alto Aspetta che arriva Allora P per accellere Io non mi ricordo Tutti i tasti Non so che dire Aspetta cerco di girare Eccomi Dove andiamo? Andiamo nella terra Andiamo a conquistare la terra Ci stai Che tasto è? Eh non te lo dirò mai No dimmi Muori Muori Maledetta Vannoci provare Dai È la prima volta che sto guidando Decentemente Lasciami in pace Ma stai andando velocissima Rispetto a me comunque È perché ho premuto un sacco di volte P Arrivo Andiamo a conquistare la terra Aspetta Allora Centro dentro Sono pronta a provare X E sei sotto No sono andata sotto Aspetta Devi venire un po' più in alto Aspetta Cerchiamo di fare Atterraggio perfetto Un giro Uh uh Sì ragazzi Aspetta aiuto Tutto ok? Più o meno Dai secondo me la puoi Secondo me riuscirei a salvarla Non ne ho idea Guarda come atterraggio Guarda la mia Guarda Atterraggio perfetto Bravo bravo Allora Stai lontano dalla bandiera Ok vediamo come funziona Perché magari si flipa Oh Ma Non capisco Sono io rosa Non capisco Vabbè è mio Ho conquistato la terra Senza far nulla Adesso provo una cosa Scusami Esci un attimo Esci un attimo Voglio provare una cosa Esci Mi ci metto sopra io Magari dal colore a te Oppure rimane così No sono nato Per non avere Le bandiere È un complotto Contro di me Ma è stranissima questa cosa Allora Non la capisco Io non ti voglio far impazzire Ok Ti ricordi Two Ace Tycoon Quello del Far West Sì certo che me lo ricordi Ok ti ricordi che facendo le uccisioni Facevi dei soldi Sì Ok guarda in basso a destra Oh mio dio ci sono dei crediti anche qua Cosa si può Clicca la casetta Già Oh mio dio Sì C'è il mantello delle visibilità No c'è il jetpack Non vorrei dire Ma io voglio il mantello dell'invisibilità 3.000 però Mamma mia quanto costa È il jetpack 3.500 È pieno West Perché il sistema Perché il sistema qua a sinistra Il sistema di kill E di shopping Mi sembra totalmente Uguale lo stesso Quindi secondo me Non ho idea Non vorrei dire cavolate Però potrebbe essere Perché in effetti è molto simile Secondo me sono gli stessi Fateci sapere ragazzi Per chi ha giocato una mappa Nei commenti Se serve a qualcosa Conquistare i pianeti O se è solo per divertimento Perché sono curiosissime questa cosa Esatto Magari se monia non aveva la capita Quindi sono curiosissimo Ci fermiamo così Facciamo vedere la base Sì aspetta Sto salendo nell'astronava appunto Per fare il giro Allora Ho paura di Incastrarmi Inizia ad andare Inizia ad andare Perché non riesco a sedervi dentro Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Andiamo Ok avevo qualche difficoltà C'è qualcuno che mi spara È caduta di sotto Accidenti Sono abbastissimo di vita Attenta No No vabbè mi sono buggata Come sempre Vabbè Sono incastrata nel pavimento Lo faccio vedere io per te Guardate che bella la base Vi faccio vedere tutti i lati Con io velocissimo Tutto intorno E guarda cosa ho scoperto Leggendo i tasti Perché c'è scritto Con F Spari dei missili Bim L'hai visti? Bello No è fighissimo È fighissimo Se funzionassi un po' meglio E si buggasse di meno Sarebbe anche meglio Diciamolo Se tu che sei un pilota scarsissimo Ma lascia perdere Di chi è questa navicella? La vedi? È qua piantata Non ho idea Guarda il colore Non lo so Siamo tutti un po' impiantati Comunque ci fermiamo così ragazzi Spero che il video faccia così Se vi è piaciuto lasciatci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao